ciao a tutti da jgr studios il nostro canale dedicato alle lezioni recensioni e tutorial sull'audio recording non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati torniamo quindi ad occuparci di studio basic ossia da dove iniziare per gli acquisti di un nostro studio casalingo a basso budget abbiamo già visto un video su questo canale riguardante le eris 4.5 della presonus ed oggi ci occupiamo di analizzare l'upgrade evolutivo di questo sistema nella serie eris sono casse monitor a due vie con una risposta in frequenza degna di nota sempre rimanendo al centro del risparmio in questa versione notiamo subito un'aggiunta del bass reflex frontale anteriore per allargare lo sweet spot e aumentare quindi la presenza dei bassi il nuovo design infatti è stato affidato a hug service di works audio per garantire una risposta in alta frequenza migliore e superiore rispetto il modello precedente sul retro come già abbiamo potuto apprezzare nell'eris 4.5 troviamo un eccellente pannello di controllo e di configurazione acustica assente nelle casse concorrenti in sostanza troviamo un ingresso xlr bilanciato un ingresso trs bilanciato un ingresso rca sbilanciato la risposta in frequenza dichiarata è 48 hertz 20 kilohertz la frequenza di crossover è fissata a 3 kilohertz la potenza dichiarata è di 45 watt sulle basse 35 watt sulle alte il picco spl ad un metro è fissato a 102 db l'impedenza in ingresso è di 10 kilo ohm i controlli di gain incidono da meno 6 db a più 6 db sui medi e sugli alti mentre sui bassi possiamo applicare un taglio da 80 a 100 hertz come vediamo per chi desidera poi utilizzare un sub apposito da dedicare a quel tipo di frequenze come per l'eris 4 troviamo il controllo dell'acoustic space in base al nostro sweet spot di lavoro utilissimo quando ci troviamo ad usarle in ambienti stretti o scomodi l'ingresso dell'alimentazione la rende versatilissima con voltaggio da 100 a 220 volt e protezione attraverso un fusibile il cabinet è in fibra di legno rivestito in lamina vinilica le dimensioni sono generose 20 centimetri per 22 per 28 per un peso totale di 4 chilogrammi luna ma vediamo come si comportano su strada dopo un po di ascolti e confronti non giustificati e senza senso contro le genelec ma giusto per avere un riferimento pro le eris 5 xt sono risultate delle ottime casse monitor per l'editing preproduzione recording in genere al limite anche per ascolti a medio e basso volume non sono casse pro non si collocano ovviamente in quel mercato questo è bene precisarlo si fa fatica a fare un mix professionale un mastering professionale proprio a causa dei limiti fisici della cassa lo stesso accade per tutte le altre casse concorrenti di questo tipo diffidate quindi da chi pretende di vendere questi prodotti nel mercato pro il prezzo è allettante infatti costano veramente poco 145 euro luna soprattutto per il livello di qualità che possiedono e sicuramente prendono il posto delle precedenti eris con bassi più profondi e definiti anche se si perde molto dopo i 60 hertz ma è un fattore normale per la dimensione del cono hanno una spiccata presenza nelle medie in stile ns 10 per intenderci ed infatti non sfigurano affatto se paragonate a quelle anzi gli alti sono forse un po troppo brillanti per i miei gusti ma per fortuna possono essere limitati dalle regolazioni posteriori che regolano sia l'equalizzazione sia lo spettro stereo un eccellente future per il tuning quasi perfetto nella stanza dove andremo a metterle un tuning migliore lo si raggiungerà con il sistema sonar works che vi straconsiglio per tutti i monitor in vostro possesso in sostanza una volta sistemate per bene disaccoppiate dai tavolini e tunate come si deve rivaleggiano con casse di gran lunga superiori presenti sul mercato una bella lotta ora tra queste entry level e le adam t7v se avete problemi di spazio ve le consiglio vivamente 280 euro circa per una coppia è un affare vi consiglio ovviamente sempre di provarle dove possibile perché comunque un ascolto attraverso youtube non avrebbe minimamente senso spero che questa piccola recensione vi sia stata utile vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online dove gli argomenti vengono affrontati in maniera semplice ed accurata verrete a contatto con le mie tracce affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di supportare il mio canale patreon per il momento è tutto ciao a presto